Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, buongiorno a chi ci segue non solo sul digitale terrestre sul canale 99 ma anche a chi ci segue in streaming NettunoTV.tv Apriamo subito parlando di Vivere a Spreco Zero 2017, un premio che è stato assegnato per le buone pratiche contro lo spreco alimentare. A vincere quest'anno è stato però il Comune di Milano, dico perché effettivamente il premio che nasce dall'idea del professor Segre alla fine è andato fuori della nostra regione ne abbiamo parlato proprio con lui, con il professor Andrea Segre che è fondatore di Last Minute Market, nonché anche ideatore di Figo e tanti altri titoli e sulla organizzazione proprio per quanto riguarda queste tematiche per cercare di limitare lo spreco alimentare. Andiamo a sentire il professor Segre al microfono di Mario Giulianti. Cerchiamo di valorizzare le tante esperienze che ci sono in Italia, i comuni, le scuole, le aziende e anche le persone che sono in realtà poco note e quindi è un modo per moltiplicare le buone pratiche. Credo che la longevità relativa di questo premio, 5 anni, i dati che ogni anno cerchiamo di calcolare soprattutto sul tema principale spreco domestico ci danno un indicatore di quanta strada c'è ancora da fare per ridurre per davvero a zero questi sprechi. Per quanto riguarda Figo, unendolo al tema dello spreco alimentare, come è organizzata sotto questo aspetto e anche come sta andando Figo dall'apertura? Intanto sta andando bene, è chiaro che è una grande novità, ci sono delle cose ancora da mettere a posto però i numeri rispetto ai visitatori sono assolutamente in linea con le aspettative. e la domanda che tutti mi fanno è se anche Figo è a spreco zero, naturalmente abbiamo fatto un piano per il recupero e per la prevenzione. Ricordo che quando c'è stato il G7 a Bologna, a giugno abbiamo firmato un protocollo di intesa fra la fondazione Figo, Figo Italy World, il CAB con la Multi Utility, con ERA proprio perché sia un esempio di studio di economia circolare dove ridurre a zero gli sprechi alimentari di sicuro ma anche minimizzare i rifiuti. Siamo appena partiti ma il percorso anche da questo punto di vista è promettente. E questa mattina c'era anche il sottosegretario al Ministero dell'Ambiente, Barbara Degani, l'occasione per parlare anche lei di spreco. Sentiamo ancora Mario Giuliante. Nel tema dello spreco ambientale, quanto è importante il comportamento della persona? Il comportamento è fondamentale, noi possiamo attraverso le leggi, penso alla legge che riguarda lo spreco alimentare, dare delle indicazioni, produrre anche dei divieti. Possiamo cercare di lavorare con le industrie perché ci sia meno spreco all'interno della filiera, però il comportamento è fondamentale, cioè lo stile di vita che si vuole impartire per modificare le cattive abitudini è determinante. Lo è perché da poco è stata vista che proprio l'economia comportamentale fa la differenza e quindi l'aspetto psicologico, la spinta dolce cosiddetta può fare la differenza anche nello spreco alimentare. Altri paesi l'hanno applicata e si è ridotto di un terzo lo spreco alimentare. Io credo che proprio l'utente finale sia quello da cercare, da aiutare e con il quale dialogare maggiormente. Vediamo che nelle scuole ci sono dei progetti interessantissimi, oggi ne premiamo alcune, che vanno proprio dallo studio della catena alimentare ma poi si parla anche di spreco alimentare e quindi benissimo le scuole, come dicevo prima bene anche la filiera della produzione, il terminale ultimo che siamo noi cittadini e il nostro frigorifero va invece spiegato meglio come e perché si deve sprecare di meno. E veniamo alla cronaca. I carabinieri del comando provinciale di Bologna in due distinti episodi hanno arrestato quattro rumeni, tutti con precedenti di polizia e senza fissa dimora, resisi responsabili di reati contro il patrimonio. Un 22enne, un 24enne e un 38enne sono finiti manette per concorso in tentato furto. È successo sabato notte quando il 112 è stata informata che all'interno di un magazzino dell'Enel situato in via Carlo Darwin era scattato un allarme anti-intrusione. Quattro pattuglie dei carabinieri che in quel momento stavano svolgendo un servizio di vigilanza urbana ci sono dirette velocemente sul posto riuscendo così a intercettare i tre soggetti che stavano per darsi alla fuga a causa dell'attivazione dell'allarme. Il 24enne era finito in manette già mercoledì scorso per aver commesso una rapina impropria all'interno dell'Ipercop del centro commerciale Leonardo, per questo il 24enne era stato condannato con rito direttissimo ma purtroppo era tornato a delinquere. Il Tribunale di Bologna ha convalidato gli arresti effettuati, ha disposto per tutti e quattro la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della città metropolitana di Bologna ma di fatto in qualche modo sono tornati in libertà. E adesso ci occupiamo invece di turismo perché è stata aperta una porta di collegamento tra la Cina e la città di Bologna. Andiamo subito a sentire la soddisfazione di questo nuovo legame e nuova promozione turistica dalle parole del presidente di Bologna Welcome, Celso Descrilli, al microfono di Michela Conficoni. Abbiamo incominciato a seminare già da un anno, iniziando con la certificazione di Bologna Welcome Chinese che ci ha permesso poi di promuovere, di iniziare con questo volo che partirà a maggio-giugno e fatto da un tour operator cinese che è il principale tour operator cinese che si chiama Phoenix, ha 8.000 agenzie di viaggio e organizza 30 voli al giorno per l'Europa. Per preparare il terreno appunto sono state fatte una serie di operazioni come lingua cinese nel menù insomma una serie di cose che già da tempo sono state attivate. A che punto stiamo in questo processo di rendere la nostra città accogliente per un cinese? Ma su questo direi che siamo già a buon punto, siamo la prima città italiana certificata il primo aeroporto in Italia e la prima anche in Europa e quello che c'è da lavorare molto sono sui prodotti perché chiaramente non vengono in Italia ma vengono in Europa e quindi bisogna anche accompagnarli in altre città e in altre destinazioni e non vengono sicuramente per andare al mare perché i cinesi non vogliono, non sopportano la spiaggia e il mare sono interessati a delle esperienze nuove rispetto alle città che hanno già visitato e quindi Bologna si propone con dei prodotti molto interessanti per loro che sono innanzitutto i motori, i motori come esperienza quindi andare sia ai musei ma anche dentro le fabbriche. E saranno diverse le rotte aeree proprio di collegamento tra la Cina e Bologna andiamo a sentire l'amministratore delegato dell'aeroporto Guillermo Marconi di Bologna si tratta di Nicola Ventola alla microfono di Michela Conficoni L'incremento in termini assoluti visto che noi faremo un 2018 ben oltre gli 8 milioni di passeggeri non sarà un numero enorme pensiamo circa 50.000 passeggeri nel corso della stagione però diciamo il tema è molto più strategico che quantitativo in questa fase cioè siamo il terzo aeroporto italiano che avrà dei collegamenti diretti con la Cina in un periodo nel quale il mercato cinese sta esplodendo oggi dall'Europa alla Cina sostanzialmente sono collegate solamente capitali le città più piccole sono città come Barcellona per avere un'idea e poi c'è Bologna che quest'anno, prossimo anno, metterà dei voli diretti nell'operazione che abbiamo costruito quindi la valenza è più che numerica dove ci sarà una valenza anche numerica soprattutto strategica perché farà conoscere il territorio al mondo del turismo cinese e farà conoscere l'aeroporto di Bologna come una destinazione di ingresso per questo territorio e per un'area ancora più vasta Un traguardo che arriva dopo diverso tempo di lavoro, quanto? Il primo viaggio che abbiamo fatto in Cina per questo progetto risale al marzo di quest'anno dove abbiamo preso la certificazione Welcome Chinese è stato un elemento molto importante perché ci ha reso più credibili nei confronti del mercato cinese e poi da quello abbiamo continuato a costruire lavorando insieme ai tour operator cinesi e a Bologna Welcome, alle istituzioni locali e anche alla Welcome Chinese che ci aveva certificato per accreditarci su quel mercato quindi diciamo che circa un anno con una spinta soprattutto a partire dal marzo del 2017 che poi si è finalizzata pochi giorni fa Ha inaugurato alla raccolta Lercaro la nuova mostra Maria la bellezza di un volto tra passato e presente frutto di un lavoro di formazione su arte e sacro il lavoro è a cura di padre Andrea Dall'Asta e Claudia Manenti ed è visitabile negli orari di apertura della raccolta il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 18 e 30 ieri abbiamo incontrato anche il presidente della fondazione Lercaro Sua Eccellenza Monsignor Ernesto Vecchi riesco a consigliare merito di Bologna che ha parlato proprio del rapporto tra arte e sacro che va ricostruito sentiamolo Certo c'è bisogno di ricucirlo perché in Europa purtroppo tutto traballa Malançon, quello che ha perso le elezioni in Francia che era un antagonista di Macron ha proposto subito dopo di togliere dal Parlamento francese la bandiera d'Europa che ha le 12 stelle quindi lui sapeva bene che queste 12 stelle richiamavano il tema dell'Apocalisse questa donna vestita di sole per cui c'è bisogno proprio nel centenario di Fatima di cogliere la profezia di Fatima perché non succede più in questo nuovo secolo in questo nuovo millennio quello che è successo un secolo fa cioè la rivoluzione russa che ha portato tanti guai e oggi li vediamo tutti anche quelli che hanno cercato di intortare la salsa però è sempre quella ecco quindi dal materialismo non esce niente Bologna e l'Europa hanno bisogno di riconciliare la vita dell'uomo con Dio con una vera laicità non con il laicismo alla francese cioè la laicità che vuol dire quella del Vangelo dare a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare nella più grande libertà questa è la formula per uscire dalla crisi economica dalla crisi morale dal femminicidio da tutte quelle violenze di cui oggi siamo testimoni che saranno destinate ad aggravarsi se Dio non rientra di nuovo nella storia ha detto perfino Cacciari che è un filosofo che viene dalla sinistra ma quando si è incontrato col Cardinal C'è ecco ha riflettuto ha scritto un bellissimo libro proprio su Maria che genera Dio e andiamo a sentire anche le parole di Claudia Manenti come detto curatrice insieme a padre dall'asta di questa mostra sentiamola il progetto nasce dal progetto di Devozio della fiera per l'esposizione dei prodotti del settore religioso che ha dato l'opportunità al centro studi di coordinare il comitato scientifico che si occupa della parte culturale quindi tra i progetti che sono stati portati avanti c'è stato quello dei percorsi di avvicinamento tra artisti contemporanei e mistero cristiano proprio nella volontà di riavvicinare gli artisti che parlano linguaggio spesso astratto invece a un figurativo che fa parte proprio della dinamica liturgica della Chiesa Cattolica e quindi è stato fatto proprio un percorso insieme agli artisti per giungere alle opere che sono state esposte tema mariano per ricordare l'apparizione di Fatima il tema mariano è un tema cardine nella vita della Chiesa Maria è madre della Chiesa quindi in ogni Chiesa ci deve essere un'immagine mariana e quindi ci è sembrato l'immagine più rappresentativa per iniziare appunto questo tipo di percorso sotto il segno di Maria anche proprio in quest'anno in cui si si celebrano il centenario delle apparizioni di Fatima cambiamo pagina in una Bologna che continua ad essere molto vivace abbiamo sentito adesso arrivano anche i cinesi ma è una Bologna che continua con tante attività è proprio terminata questo ultimo fine settimana suite Bologna allora ringrazio Vittorio Sabatelli che è il direttore creativo in studio qui accanto a me ciao buongiorno buongiorno a tutti benvenuto allora nonostante la pioggia comunque il dolce vince sempre possiamo dire così possiamo dire così anche siamo stati anche fortunati perché abbiamo avuto solo una mezza giornata di pioggia ma appena la pioggia ha smesso di cadere siamo rimasti murati dalla gente questo è il dolce che ha vinto? questo è il dolce che ha vinto sì 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 il best in show è un dolce di un pasticcere di Mirandola in provincia di Modena e questi sono invece che vedete ecco questi zupi anche l'arcivescovo di Bologna sui Bologna sì 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 è passato l'arcivescovo l'abbiamo catturato un attimo perché era curiosissimo dei dolci era anche goloso immagino non ne ha assaggiato neanche uno era solamente curioso di incontrare gli artigiani e di parlare con loro un attimo con me scambiare quattro cacchiere e poi andare a celebrare messa in San Petronio allora undici pasticceri in gara ricordiamo un po' quello che è successo in questo fine settimana in piazza Renzo undici pasticceri in gara voto diciamo dato da chef e voto popolare sì 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 due tipi di votazione una che si è tenuta il sabato con un parterre di grandi esperti uno il maestro Leonardo Di Carlo una grande star internazionale della pasticceria italiana e giudici come autori di food writer si dice autori di cucina italiana e anche l'esperto gastronomico del resto del carriero che hanno scelto il best in show cioè il miglior pasticcere che ha elaborato in entrambe le categorie il dolce migliore quindi l'abbiamo visto eccolo qua lo vedete adesso vedete questi sono i dolci che hanno vinto il best in show mentre la giuria popolare ha decretato due nuove nuovi pasticceri uno devo dire eccolo qui lo vedete sulla vostra sinistra Antonio Russo che si è riconfermato aveva già vinto l'anno scorso con la turrita una conferma con il suo dolce innovativo che si chiama lo scrigno di Nettuno è un giovane pasticcere di Valsamoggia eccolo lo vedete sulla destra Andrea Tedeschi che ha vinto per la miglior torta di riso rivisitata quindi veramente molto molto bene allora grande momento grande partecipazione Confindustria Emilia al vostro fianco Confartigianato al vostro fianco il comune di Bologna insomma tante aziende del territorio bolognese solo due parole è importante spenderle in questo caso perché come sentivo prima le migliori pratiche per quanto riguarda lo spreco zero Bologna nel suo questo piccolo insomma non siamo insomma non saremmo certo noi a cambiare le cose però anche in un evento come Sweet Bologna possiamo parlare di buone pratiche perché siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di istituzioni dalla Confindustria alla Confartigianato che ha anche contribuito in solido per una parte per i pasticceri proprio per consentirli di creare di non star lì a pensare alle spese ma di concentrarsi sulla qualità dei prodotti e così come col comune di Bologna che ci ha insomma è stato il nostro angelo custode perché non è facile fare un evento in piazza Renzo così come chi ci ha sostenuto come Ridania Cannamela Villa Polgiolo che hanno creduto nel progetto quindi tutti insieme verso un unico obiettivo bene adesso io so che hai altri progetti però non ti li faccio anticipare no 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 li tieni ancora nascosti ai segreti va bene grazie Vittorio Sampatelli grazie a voi grazie a tutti grazie davvero complimenti per Sweet Bologna noi adesso andiamo invece ad occuparci della campagna civica per una mappa partecipata dell'inquinamento atmosferico in città che è stata promossa da un'associazione che si chiama Aria Pesa composta da associazioni e comitati di cittadini bolognesi andiamo a sentire le parole di Daria Transtreller dell'associazione amo.mo Bologna Ollus al microfono di Mario Giuliani vogliamo un'aria migliore vogliamo sapere intanto com'è la qualità dell'aria a Bologna abbiamo sospetti che non sia eccelsa di solito ce lo dice anche l'Europa e abbiamo delle grandi preoccupazioni rispetto alla nostra salute lo lanciamo in Montagnola sia per il punto centrale perché siamo anche in collegamento con il comitato Free Montagnola che è già nato dai genitori delle scuole e betti dell'area della Montagnola e lanceremo questo evento in cui ci sarà sicuramente una parte ludica dedicata ai bambini quindi dedicata al presidio della Montagnola da parte dei cittadini e poi una parte più tecnica in cui spiegheremo cosa intendiamo fare rispetto agli eventi rispetto al monitoraggio della qualità dell'aria e avremo un collegamento con Milano con Anna Gerometta presidente dell'associazione dei cittadini per l'area di Milano con cui siamo collegati perché questa campagna fa parte di una rete nazionale e la loro esperienza dello scorso anno sarà anche replicata qui da noi Ci sarà anche un confronto con le istituzioni? Il nostro scopo non è sicuramente sostituirci alle istituzioni noi siamo cittadini avremo delle informazioni avremo dei dati li restituiremo ai cittadini e il dialogo certo se loro sono pronti a dialogare con noi noi siamo pronti a dialogare alla luce di informazioni serie scientifiche e di preoccupazioni ancora più serie Siamo alla pagina sportiva ieri ha debutato come spero abbiate visto numerosi 99esimo minuto il nostro nuovo format televisivo sportivo della lunedì sera dalle 21 realizzato nello studio davvero splendido che è stato realizzato all'interno del Macron Store ma lascio tutto ovviamente a Giacomo Bianchi che è già qui pronto in studio per voi Partiamo appena da questo perché ieri tra tanti ospiti c'era anche Marco Di Vaglio il club manager del Bologna ha parlato tanto nei nostri microfoni diverse domande l'abbiamo veramente anche in un certo senso stufato dal punto di vista ovviamente professionale Marco Di Vaglio ha parlato però di quello che è il momento del Bologna quindi andiamo a sentire le sue parole Adesso è tutto molto positivo però c'è da dire che la cosa positiva di quest'anno che mi sembra che la squadra abbia una certa continuità nelle prestazioni nel senso di andare in campo comunque giocarsi tutto sempre a viso aperto cercando di anche nelle quattro sconfitte che abbiamo fatto comunque la squadra è stata sempre presente cercando sempre di dare il suo di cercare di fare la sua partita anche nelle difficoltà di mettere mettere sempre il massimo dentro dentro il campo cosa che c'è stata rimproverata lo scorso anno dalla maggior parte dei tifosi soprattutto e della critica soprattutto nella seconda parte del campionato quest'anno mi sembra che comunque la squadra dall'inizio del campionato dopo la brutta brutto inizio con il Cittadella abbia trato una certa continuità sotto questo punto di vista poi dopo come tutte le squadre del nostro livello purtroppo puoi vivere momenti più o meno positivi però la consapevolezza comunque la squadra che sta dando è che sta credendo sempre di più nei propri mezzi e sa che comunque in ogni momento della partita facendo determinate cose può risolvere o può trovare risultato positivo questo penso che sia una consapevolezza importante per i ragazzi che stanno acquisendo che ci stanno lavorando sopra soprattutto sugli errori fatti dello scorso anno in più la partita di sabato ci ha detto che è una rosa competitiva per il nostro livello perché abbiamo cambiato quattro difensori su quattro rispetto alle ultime prestazioni per vari motivi e i difensori che sono entrati hanno fatto hanno fatto tutti bene dando contro una squadra che ha fatto tre gol domenica scorsa alla Juventus che sta facendo un grandissimo campionato che farà un grande campionato sicuramente perché comunque hanno idee molto chiare però hanno fatto un'ottima prestazione e questo va dato merito allo staff al mister ai ragazzi che comunque credono molto nel lavoro quotidiano e lo fanno in maniera seria e la dimostrazione è questa che i ragazzi che vengono chiamati in causa comunque offrono delle prestazioni importanti questo era Marco Di Vaglio vi ricordo avete la possibilità di rivedere tutta l'intervista a Marco Di Vaglio a brevissimo quando caricheremo tutta la puntata di 99esimo minuto sul nostro sito www.nettonotv.tv così anche per rivederla on demand sul nostro sito parliamo adesso di un altro degli ospiti presenti ieri sera nel corso della nostra puntata c'era l'assessore allo sport del comune di Bologna Matteo Lepore al quale inevitabilmente abbiamo chiesto di stadio in intervista di Filippo Cotti è un progetto importante che si sta cercando di portare avanti tutti insieme come il Bologna più volte detto è un progetto imprenditoriale che deve cercare di dare respiro alla squadra alla città nei prossimi anni quindi occorre fare i passi giusti noi entro quest'anno attendiamo appunto dalla società un progetto sia sulla ristrutturazione ma anche sul piano economico finanziario è il progetto che poi va valutato dalle istituzioni quindi siamo esattamente al punto che abbiamo sempre raccontato ed è credo che sia giusto che Bologna si prenda tutto il tempo per ragionare sugli aspetti tecnici e anche quelli economici 2020 comunque beh diciamo intanto abbiamo questa grande opportunità degli europei under 21 che non va affatto sottovalutata abbiamo avuto questa sfortuna dell'eliminazione dell'Italia senior dobbiamo immaginarci un po' in prospettiva cosa sarà il calcio italiano nei prossimi anni tutti diciamo che bisogna ripartire dai giovani dal calcio vero dalla base dall'entusiasmo dalla passione cosa c'è di meglio degli europei under 21 che si giocano in questa regione per rilanciare questa idea di calcio quindi sarà un appuntamento importante subito dopo sarebbe ottimo partire col primo mattone della riqualificazione dello stadio chiaramente bisogna rispettare i tempi per riuscire a farlo partire in questo mandato questo come detto ieri durante la puntata d'esordio di 99esimo minuto il Bologna oggi ricomincia ad allenarsi allenamento alle ore 11 a Casteldebole per la squadra questa mattina di Roberto Donadoni in vista della sfida contro il Cagliari vi ricordo si gioca domenica alle 15 al Dallara parliamo invece di basket perché potrebbe essere imminente l'annuncio di Guido Rosselli che dovrebbe diventare un giocatore della fortitudo si attende che la Virtus lo liberi dopo aver tesserato un altro giocatore o quantomeno che ci sia un accordo tra le due parti per far sì che Rosselli vada a firmare il contratto in casa fortitudo attraverso il fiume reno e diventi un giocatore della squadra di Matteo Bonicciolli il contratto è di base biennale la Virtus per sostituire Rosselli dovrebbe firmare Alessandro Paiola con un contratto professionistico anche se nelle ultime ore continua a circolare in termini di mercato potrebbe essere tesserato anche Andrea Latorre in questo momento in rosa di proprietà di Milano e non sta assolutamente giocando con la squadra di Pianigiani con l'Olimpia potrebbe però essere tesserato dalla Virtus proprio per sopperire quel ruolo che in questo momento manca dopo il saluto a Guido Rosselli in casa fortitudo invece continuiamo a parlare dei bianco-blu perché ieri la squadra non si è allenata per il giorno di riposo concesso da Matteo Bonicciolli ha fatto però una seduta di video ieri mattina alle ore 8 come aveva anticipato anche il coach per rivedere gli errori della gara contro Ravenna parleremo di questo e tanto altro poi domani durante Nettuno Sport dedicata all'edizione di basket veniamo adesso a parlare di attualità sempre nel mondo sportivo perché nel weekend parte il Motor Show dal 2 al 10 di dicembre sarà protagonista presso la Fiera di Bologna uno dei più grandi eventi legati ai motori a case automobilistiche a case motociclistiche ieri c'è stata la presentazione dell'evento andiamo a sentire le parole di Rino Drogo che è il direttore del Motor Show andiamo a sentirlo riparte il Motor Show dopo l'edizione dell'anno scorso sarà un'edizione ricca di contenuti perché torniamo a una formula che privilegia oltre all'esibizione delle vetture statiche ci sarà uno spazio molto importante anzi più importante dello scorso anno riservato alle esibizioni in pista alle prove delle vetture allo spettacolo alle gare sia nell'area 48 che in tutta l'area esterna aumentano i padiglioni che passano da 9 a 11 e aumentano gli espositori che passano da 200 dell'anno scorso a circa oltre 370 di quest'anno qualche ospite d'eccezione il grande nome ci sarà anche quest'anno sì il grande nome ci sarà anche quest'anno ovviamente li porteranno le case avremo ovviamente la Ferrari il 2 di dicembre poi avremo i soliti ospiti avremo Melandri che viene avremo Cairoli avremo Iannone con la Suzuki avremo dei testimoniali importanti da parte delle case avremo Giovinazzi che corre con la scuderia Ferrari insomma avremo Fisichella con la Formula 1 insomma ci sarà tanti tanti spettacoli e tanti personaggi importanti Avete sentito delle case automobilistiche dei grandi campioni del mondo dello sport ma il Motor Show sarà l'occasione anche per gli studenti di fare sentire la loro voce studenti che diventeranno i campioni e saranno a servizio dei campioni del domani abbiamo sentito Luca Fagionato che è uno studente di Muner all'università del motoveicolo dell'Emilia Romagna che sarà presente al Motor Show per fare vedere i suoi progetti Uno dei dei sei curriculum partiti quest'anno abbiamo iniziato da due mesi quindi stiamo gettando le basi per poi seguire il resto dei curriculum quindi partendo da quella che è l'integrazione di tutti i sistemi di un'automobile all'interno della progettazione e chiaramente l'entusiasmo è tanto e saremo anche al Motor Show di Bologna per presentarci ancora meglio per poter parlare di quello che si fa e condividere anche con tutti l'amore che tutti noi studenti abbiamo insegnanti per il Motorsport sicuramente è un sogno arrivare al Motor Show fare parte del Motor Show non da spettatore sicuramente sì nel senso è la primissima volta che mi capita di non essere uno spettatore al Motor Show e devo dire che la cosa è davvero emozionante e onestamente non vedo l'ora di potermi anche mettere in gioco davanti a tutti era Leonardo Fagionato intervistato ieri appunto su Nettuno TV era l'ultima notizia della nostra pagina sportiva e del nostro telegiornale grazie alla regia di Mario Giulianti e grazie a tutti voi per averci seguito l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle 19.15 a voi tutti buon proseguimento di giornata grazie a tutti